Alle già praticamente certe riconferme di Esposito e Maldonado potrebbe aggiungersi anche quella dell'attaccante Antonio Di Nardo. Le ultime ore sono state decisive in tal senso. Il cannoniere del Campobasso, che ha vinto la Serie D, farà ancora parte della Rosa anche in Serie C, agli ordini del toscano Piero Braia, che sarà presentato ufficialmente alla piazza ai primi di luglio. Rimane in bilico oggi la posizione dell'altro attaccante sotto contratto, Nicolo Romero. Pare che il tecnico avesse in animo di trattenere solo uno dei due attaccanti, dopo aver assistito a due partite del Campobasso, quelle contro Cavesse e Trapani della Polscudetto. Sembra pure che si stia facendo di tutto per tenere anche in Serie C il talentuoso esterno Parisi, ultimo ad arrivare al Campobasso e rivelatosi una piacevole sorpresa. Carattere forte è quello dell'allenatore Impectore del Campobasso, un tecnico che ha girato mezza Italia, ha vinto campionati e conosce la Lega Pro come le sue tasse. Per molti addetti ai lavori e giocatori, una garanzia di qualità per la Serie C. Sarà dunque mezza rivoluzione quella che stanno mettendo in atto il direttore sportivo Filipponi e l'allenatore Braia, un organico da rifare quasi da zero, con tanti contatti da portare a termine, ma soprattutto con le idee chiare anche dal punto di vista tattico. Braia dovrebbe essere fautore di un 3-5-2, il modulo con il quale il Campobasso 23-24 ha trovato le sue maggiori fortune. La Lega Pro, il pianeta su cui è ritornata la formazione rosso-blu in maniera anche celere, porterà in dote altre novità da qui a brevissimo con la composizione ufficiale dei gironi. In tanti si attendono la collocazione dei rosso-blu nel girone dell'Italia centrale. Anche in società pare siano pronti per questa evenienza, che di fatto è una novità a tutti gli effetti anche dal punto di vista geografico. Il ritiro scatterà il 15 luglio a Vinchiaturo, sede abituale degli ultimi anni e anche comoda dal punto di vista logistico. La società aveva fatto un tentativo con l'Alto Molise Capracotta occupata dalla Juve Stabbia almeno fino al 24 luglio prossimo. Negli ultimi giorni la società rosso-blu si è dedicata ad una ridefinizione dei ruoli che sono stati ridistribuiti e verranno resi pubblici nei prossimi giorni. Attese novità dunque nell'organigramma che sarà irrobustito. A Termoli la società annuncia Angelo Dinizio come nuovo commissario tecnico che guiderà la Juniores nazionale. La società ha voluto effettuare una scelta molto attenta ed oculata in un ruolo chiave vista la straordinaria rilevanza data al settore Juniores affidando la conduzione dei giovani atleti a un profilo con esperienza ventennale nelle varie categorie giovanili dilettantistiche di Roma e provincia svolgendo anche le sue attività con la Juniores nazionale del campo basso calcio. Il Termoli conferma pure il raduno di Under fissato per il 26 giugno allo stadio comunale di Pietramelara. La selezione sarà dedicata ai giovani calciatori nati dal 2006 al 2008 appuntamento fissato alle 17.30. Il tecnico della Juniores insieme al suo staff valuterà i calciatori più meritevoli per un immediato inserimento nei ranghi della prima squadra e ovviamente altri da utilizzare per il campionato Juniores.